Tutto sommato il pareggio appare alla fine giusto, vediamo insieme le azioni. Punizione di Di Bartolomei, gran botta, Zenga la vede all'ultimo momento e respinge di piede. E arriviamo così alla rete, Wilkins batte una punizione, Virdis è rapidissimo, nulla da fare per Zenga. Sull'altro fronte Rummenighe oggi molto attivo, tenta da lontano. Ancora il Milan, punizione di Evani, Etley tocca di testa e Zenga si salva ancora con estrema bravura. Corner batte Verza, entra Battistini che coglie in pieno la base del palo. Nel secondo tempo parte subito Rummenighe, ingrana la quarta, nessuno lo riesce a fermare e in diagonale pareggia. E' l'uno a uno. Poi ancora tenta da lontano Rummenighe senza fortuna. E arriva il gol del 2-1. E' Altobelli lestissimo di testa a trovare l'angolo giusto. Sull'altro fronte Zenga è rimasto in campo infortunato, Verza fa tutto da solo, supera il portiere dell'Inter e porta l'Inter al pareggio. Rummenighe è uscito per un infortunio, gli hanno dato qualche punto di sutura ma non ci dovrebbe essere nulla di grave. E' tutto a te Paolo Valenti.